Stiamo andando da Mario, stanno pure loro. Buonasera. Maretti, aspetta, ci stanno arrivando. Perché io poi oggi faccio la capacità di... Raga, lei è Teresa Santini, quella che sto organizzando tutto quanto, questo bel poco di roba qua, guarda, eccola. Esageriamo? Non esageriamo. Tere, vuoi salutare i ragazzi di ciò che vedi in città? Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per mandare via questa umidità, no? E l'umidità la cacciamo con il calore. Buonasera e benvenuti. Buonasera. 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 Sì Comunque voglio dire io mi sento italiano ma chissà perché ogni volta che vado all'estero mi dicono E dove sei? I'm from Italy No che poi dipende perché se vai in America e dici I'm from Italy Ti guarda la farà E tu fai Italy Oh, Italy Italy Sì Dillo come cacchio da pare Poi torni in Inghilterra e dici Where do you come from? From Italy 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 Allora, se non vi mettete d'accordo fra voi anglosassoni Cioè io non è che posso ogni volta cambiare, capisci? Io in America, Italy In Inghilterra, Italy Ora comincio a dire Italia Lo sai dire Italia? And when it happens It's time to write your story One more time sing it Vi adoro, grazie Vi adoro, grazie 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 Grazie